Riciclo, ecco solidarietà e pace, tutto questo in una sola parola, Ecolab della Pace, un progetto dei giovani per la pace di Sant'Egidio a Roma. Questa mattina, come annunciato, siamo collegati proprio con l'Ecolab della comunità di Sant'Egidio a Roma, vediamo i nostri amici collegati, buongiorno, bentrovati, vi chiederei subito di presentarvi, così anche i nostri amici telespettatori possono rendersi conto con chi hanno a che fare. Salve a tutti, noi siamo appunto i giovani della comunità di Sant'Egidio, i giovani per la pace, oggi siamo in diretta insieme dall'Ecolab di Pace di Trastevere. I vostri nomi ragazzi? Ok, allora io sono Anna. Ciao Anna. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Paolo, buongiorno. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Buongiorno, buongiorno. Allora partiamo dall'inizio, che cos'è Ecolab? Spiegateci un po'. Certo, allora l'Ecolab nasce come un luogo dove la solidarietà e la sostenibilità si incontrano. Noi qui smistiamo i vari vestiti che la gente dona e li rendiamo disponibili per le varie distribuzioni ai più poveri qui a Roma e non solo. Noi ci occupiamo della parte di quell'anello che unisce la solidarietà con l'aiuto ai più poveri e la sostenibilità, perché rendiamo disponibili dei vestiti che le persone portano e donano e li rendiamo appunto fruibili dai più poveri. Tutte le persone che chiedono, e ce ne sono tantissime a Roma, lo sappiamo, hanno tantissimo bisogno e quindi noi ci occupiamo proprio di quella parte più pratica, di quella solidarietà veramente concreta, che è un'attività molto bella, che unisce tanti giovani come oggi siamo qui insieme, riuniti. E vogliamo dare un aiuto concreto, non solo. Qui dall'Ecolab di pace anche degli aiuti umanitari partono per l'Ucraina e non solo, quindi per i paesi in guerra. E noi da sempre anche ci vogliamo impegnare per questo, perché proprio la solidarietà è quella che può portare un aiuto concreto. E anche qui vedete delle coperte, perché in questo periodo stiamo anche distribuendo delle coperte per i più poveri che vivono per strada, perché è un'amicizia anche quella con i più poveri e con i senza fissa dimora. Quindi date una seconda possibilità potremmo dire agli abiti che si possono riutilizzare, quindi comunque ci saranno altre persone che potranno indossarli, quindi meno spreco. Ma ci parlavate anche degli aiuti umanitari per l'Ucraina in questo momento storico. Ragazzi, come è nata l'idea di questo laboratorio? Salve a tutti! Quest'idea è nata principalmente dall'incrocio di due esigenze. Da una parte persone desiderose di donare i loro abiti caduti in disuso e dall'altra persone bisognose che avrebbero fatto di questi abiti un vero e proprio tesoro. Alla base inoltre di questo progetto, come dicevate, troviamo i principi di un'economia circolare. Quindi parliamo di condivisione, di riutilizzo, ma anche di sostenibilità. Allora, voi siete le vittime sacrificali, potremmo dire, di questa diretta. Dico bene? Esatto, e quindi però vorrei provare un po' anche ad allargare lo spettro e chiedervi quali altri giovani ovviamente fanno parte di questo bel progetto che davvero stamattina ci state facendo conoscere. Noi siamo una decina di volontari, tra studenti del liceo e dell'università, ma siamo sempre aperti ad accogliere nuove persone, nuovi volontari. Allora, a proposito di accogliere nuovi volontari, nuove persone, per il momento siete dieci, davvero vi auguriamo che ne possano arrivare altri. Come aderire a questa iniziativa? Magari ecco, come diventare giovani per la pace e come darvi una mano in questo progetto? Ecco, a proposito di questo, che è una bellissima domanda, che ci dà la possibilità di aprire un mondo, nel senso che intanto, per quanto riguarda questa iniziativa, questo tipo di servizio, ci trovate qui il sabato pomeriggio e trovate giovani per la pace liceali e universitari, appunto. Poi capiremo di più su questo movimento appunto dei giovani per la pace e dopodiché il suggerimento è quello sempre di partire dai canali della comunità, quindi che sono il sito della comunità di Sant'Egidio, che è la mail dei giovani per la pace, infochiocciolagiovaniliperlapace.it, che poi insomma ripetiremo e ribadiremo. Quindi questi i canali fondamentali. Ecco, ci rendiamo conto davvero a come abbiamo parlato di questa azione concreta che crea una sinergia tra ecologia e solidarietà e aiuto, che non è solo solidarietà, è proprio aiuto al prossimo, in quanto i giovani per la pace, stando quotidianamente nelle strade in orari diurni e nelle sedi dei vari quartieri, si rendono conto, ci rendiamo conto di quanto la povertà sia estremamente un concetto trasversale, che va a toccare dall'amico senza dimora alla persona appunto che ha bisogno semplicemente di conforto, fino poi ad arrivare anche banalmente a un anziano chiuso in una struttura alla quale questa società sta dicendo di te io non ho più bisogno. Quindi appunto è un concetto molto largo di povertà rispetto a quello che è l'immaginario collettivo. Provo a fare una domanda fuori scaletta perché più volte noi abbiamo raccontato attraverso la comunità Sant'Egidio, attraverso Caritas, del fatto che ormai non siano più gli stranieri gli unici beneficiari di queste iniziative di solidarietà, ma tanti, tantissimi italiani, probabilmente anche tra virgolette insospettabili, si rivolgono a voi, alle altre istituzioni perché c'è bisogno, c'è bisogno di solidarietà perché hanno perso il lavoro, perché non riescono ad arrivare a fine mese, perché non riescono ad arrivare a pagare le bollette per riscaldare la propria casa e i propri figli. Quello che vorrei chiedervi, quale storia in questi primi due mesi di attività vi ha colpito di più? Non so chi vuole rispondere, fate voi. Allora, sicuramente è vero quello che voi dite, nel senso che noi oltre a svolgere questo tipo di attività siamo tutti impegnati in vari fronti, mi verrebbe da dire. Per esempio, andando a fare il giro, alla distribuzione dei passi, alle persone che vivono per strada, noi proprio ci rendiamo conto di come il primo bisogno sia effettivamente un pasto caldo, che per noi è il primo incontro, è la prima vera amicizia. Dopodiché la domanda che spesso ci sentiamo porre è ma posso dei pantaloni, posso una giacca pesante, hai una coperta per aiutare a riscaldarmi? Ecco, quindi queste sono le storie che poi noi vediamo nelle nostre attività con la comunità di Sant'Egidio come la distribuzione dei pasti a chi vive per strada, dove appunto incontriamo le esigenze di una persona povera che è un italiano, che è uno straniero, assolutamente. La povertà, mi verrebbe da dire, purtroppo la incontriamo sui volti di tante persone e quindi pensiamo che questa attività di solidarietà sia anche il modo per aiutare sempre di più. E questo è un appello anche a tutti i giovani, come diceva Matteo prima, perché c'è tantissimo bisogno e il primo gesto concreto di aiuto parte proprio anche dal pasto caldo, ma anche da una coperta che ci viene chiesta dalla persona che purtroppo era anche molto freddo, quindi ci chiede un aiuto. Sicuramente questo luogo è molto importante perché rende disponibile la coperta come un abito, come una giacca pesante in questo periodo per una persona che vive per strada o comunque che si rivolge a un centro nella comunità di Sant'Egidio chiedendo aiuto, chiedendo sostegno. Ragazzi, fa bene davvero al cuore la vostra testimonianza ascoltare quello che ci state raccontando, quello che fate quotidianamente davvero per il prossimo, per chi ha bisogno. Che cosa significa essere giovani per la pace? Buongiorno, essere giovani per la pace significa prima di tutto impegnarsi per un mondo diverso, un'alternativa, un'alternativa di pace prima di tutto, ma anche un mondo in cui non è l'individuo o comunque solamente l'individuo che è messo al centro di tutto, ma è anche la comunità, il mio prossimo. Noi sfortunatamente, soprattutto noi ragazzi, spesso ci sentiamo dire no discorsi del tipo come l'unica cosa importante nella vita è il successo personale, i soldi, fare carriera. E spesso questo tipo di discorsi ci porta a dimenticare chi è accanto a noi, il nostro prossimo. E anzi spesso, sfortunatamente, lo vediamo anche molto, vediamo che i poveri a volte in un certo senso sono anche colpevolizzati, nel senso tu sei povero perché nella vita non ti sei impegnato abbastanza. Quando in realtà queste sono persone che magari sono state semplicemente meno fortunate di noi, molte persone sono finite per strada recentemente, semplicemente per la crisi economica dovuta al Covid, o anche alle recenti guerre. E quindi ecco, essere giovani della pace significa andare contro questo atteggiamento. Essere giovani per la pace significa impegnarsi per un mondo più solidale, in cui la comunità, il noi è rimesso al centro e non semplicemente l'io. Ecco, un mondo in cui si è anche attenti alle questioni attuali, nel nostro caso noi giovani, noi sentiamo molto la questione ambientale e infatti questo posto nasce anche per questa esigenza. Noi uniamo solidarietà ed ecologia. E quindi è questo che significa essere giovani per la pace. Essere delle persone solidari che aiutano il prossimo e che in un mondo dove il conflitto e il successo personale sono messi in primo piano, significa invece dire no. L'importante è il noi. Che meraviglia. Grazie ragazzi, davvero di cuore per essere stati con noi questa mattina. Aggiungo che siamo davvero a disposizione. Considerate Padre Pio TV, questo spazio in diretto, un po' come casa vostra. Quindi se avete appelli da fare o volete renderci anche partecipi di altre iniziative, notizie o storie, siamo davvero a vostra completa disposizione. Grazie mille. Grazie, grazie ragazzi. Ringraziamo i ragazzi delle collab della comunità Sant'Egidio di Roma. Mi piace pensare, salutiamoli ovviamente, a quell'espressione di Papa Francesco che dice la pace si fa in maniera artigianale, ecco, anche sporcandosi le mani. E questo potremmo dire uno degli esempi concreti di questo principio così bello, davvero così sentito. Noi ora ci dobbiamo fermare ancora una volta per la pubblicità. Facciamo ancora qualche altro istante di pausa e poi abbiamo un altro ospite con noi.